Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal giardino del convento dei frati minori Cappuccini che porta verso il santuario di San Pio. Beh oggi non ho nessuna storia da raccontare, cioè ecco lo vedete questo indirizzo di posta elettronica dove noi raccogliamo tutte le vostre storie. Oggi mi fermo perché voglio raccontarvi qualcosa che mi riguarda. Ormai da circa quattro anni con la pandemia è nato Un minuto con Padre Pio che vi accompagna soprattutto sui social, soprattutto su YouTube, su Instagram, a volte anche su TikTok, ma anche in TV. E per la prima volta qualche settimana fa questo filo si è interrotto per circa due settimane. Anche quando io sono stato in ferie o sono stato, ecco, fermo a lavoro per malattia o altro, Un minuto con Padre Pio è sempre avuto una certa costanza. C'era sempre, per 365 giorni l'anno. Ma qualche settimana fa ha subito una battuta d'arresto. Non dipesa da nessuno, ma dipesa solo da me. Perché, come a tutti capita nel corso della vita, arrivano determinate situazioni che ti impongono di fermarti, di riflettere e di capire se andare avanti o meno. A volte, lo ripetiamo spesso, è lo stesso Padre Pio che dice attraverso i suoi scritti, è facile prendersela con chi ami quando hai un problema. È quello che purtroppo è accaduto a me. Ognuno di noi nel corso della nostra vita ha tante problematiche da affrontare in famiglia, al lavoro, con gli amici, tante piccole situazioni. E così è stato anche nella mia famiglia, quando all'improvviso, un giorno, il cancro ha bussato alla porta di casa. La mia famiglia, mia moglie, Simona, che mi aiuta e mi dà una grande mano nel portare avanti questo piccolo programma, questa piccola rubrica. Allora già a fatica io portavo avanti questa situazione. Poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata quella in cui mi è stata rubata l'auto. È un piccolo problema rispetto al grande problema. E la prima cosa che mi è venuta in mente è subito dire stop. Mi prendo due settimane di ferie. In quel momento io me la sono presa con Padre Pio. In quel momento io me la sono presa con il programma a cui dedicavo tante energie del mio tempo per andare a divulgare il carisma, il messaggio di Padre Pio. ecco, in quel momento è stata la cosa più semplice, prendermi dei giorni di ferie, bloccare il programma, chiedere alla redazione di inserire delle repliche per la tv, ma bloccato per i social. Ecco, sui social per due settimane c'è stato un buco. Non capitava dal 2020. L'auto che mi è stata rubata mi è stata restituita solo la scocca. Cioè non esisteva più nulla, è stata cannibalizzata. E all'interno ho trovato solo i libri di Padre Pio. È proprio così. Avevo circa quattro libri di Padre Pio. Uno dedicato a tutto l'anno. Era un'agenda. un'agenda. Un'agenda dove ogni giorno c'è una frase di Padre Pio. Io tutto il resto è sparito, svanito. C'era anche qualcosa che usavo per il lavoro. Da qui ci sono state tante email da parte vostra, da parte di coloro che hanno chiamato in redazione. Ecco perché questo programma non va più. Perché solo sui social era stato interrotto, ma non in tv. Una mail di qualche giorno fa che ci ha ringraziato, ha ringraziato la redazione, ha ringraziato l'emittente per quello che facciamo sui social. Ecco, scriveva questa nostra amica, scriveva sicuramente Padre Pio, come non amava ad esempio la televisione, non amerà anche i social, però i social quando vengono usati attraverso un buon utilizzo, sicuramente lui dal cielo apprezzerà questo lavoro che state facendo. Ecco, io ho visto in questo un segno, un segno da parte di Padre Pio, che mi ha incoraggiato ad andare avanti. Nonostante i problemi, nonostante tutto quello che è accaduto, tutto quello che accade nelle nostre famiglie, ecco, io credo che Padre Pio non ci lascia mai soli. Ecco, ci aiuta a capire quanto sia importante affidarsi a Dio, confidare in Lui. Ecco, Padre Pio che diventa uno strumento tra noi e Dio e Lui non ci lascia mai.